I contenuti dell'Agenda ONU 2030, il programma d'azione per lo sviluppo sostenibile sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, filo conduttore del quarto e penultimo appuntamento con hashtag Marche Europa. Ad ospitare i seminari di approfondimento organizzati dal Consiglio regionale con la collaborazione dell'Istau è stato questa volta Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno. Abbiamo deciso di parlare anche del tema della solidarietà perché è sempre più evidente una sperequazione, una differenziazione nei redditi della popolazione in Italia ma anche nella nostra regione. Si divaricano le situazioni economiche delle famiglie e credo che un'attenzione maggiore ai problemi reali delle persone sia assolutamente necessaria anche e soprattutto da parte delle istituzioni. La povertà aumenta in Italia, aumenta nella nostra regione e oggi è un'occasione utile di dibattito e di approfondimento su questo tema. Dopo i saluti di Mario Busti, presidente dell'Università della Pace, il seminario è entrato nel vivo con la relazione dell'economista Enrico Giovannini sull'Agenda ONU 2030 e i suoi 17 obiettivi. Siamo qui proprio perché non possiamo mancare a un impegno così importante, noi vogliamo collaborare, adesso farò delle proposte poi, proprio al patto dello sviluppo per la rinascita di questa regione e soprattutto dei comuni del cratere che hanno subito questa prova terribile del terremoto. Qual è il nostro petrolio, la nostra ricchezza? È il patrimonio artistico, storico, enogastronomico da cui possiamo veramente, la nostra miniera d'oro, da cui veramente possiamo ripartire con degli eventi che portino gente, che portino solidarietà e vicinanza a queste popolazioni. Non possiamo mancare. In realtà gli obiettivi sono una dichiarazione degli intenti che però vengono declinati in 169 target sotto obiettivi molto concreti. Si va dalla eliminazione della povertà estrema, alla lotta alla disoccupazione giovanile, al miglioramento dell'ambiente. Non è solo una lista, è un vero e proprio piano per trasformare il nostro sistema economico, sistema sociale, in modo da renderlo sostenibile non solo sul piano ambientale, ma anche su quello appunto economico, sociale e istituzionale. D'altra parte l'alternativa a uno sviluppo sostenibile è uno sviluppo insostenibile e non è quello che vogliamo. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, vicepresidente nazionale del Lanci, ha posto l'accento sul ruolo degli enti locali. È un'agenda che in verità è una grande opportunità per tutto il paese. L'Italia può competere sulla qualità della crescita e dentro questa agenda ci sono gli indicatori sui quali lavorare. Questo vale a maggior ragione per una regione come le Marche, che nonostante la crisi che l'ha colpita fortissima, nonostante il terremoto, è una regione che ancora ha un'altissima qualità della vita. E quindi nell'abbinata crescita economica e indicatori ambientali, culturali e legati all'uguaglianza e al sociale può fare la differenza e in qualche modo può ricavarsi un ruolo di competitività. Non è una scelta diciamo secondare, ma deve diventare una scelta strategica, quella di uno sviluppo sempre più sostenibile e di uno sviluppo che punti non solo alla quantità, ma anche alla qualità della crescita.